Per quello che riguarda il post partita non ho né voglia né piacere a commentare niente, penso che in tutte le cose ci voglia sempre educazione. Per quello che riguarda il gap con l'Iventus, noi abbiamo appena iniziato, quindi è un anno e mezzo che io sono all'Inter e sto lavorando e penso che i passi in avanti si siano fatti sotto tutti i punti di vista. Ha detto questo, per i miracoli ci stiamo attrezzando, si dice a casa mia. Io penso che in tutte le competizioni ne vinca una sola, quindi se tutte le altre dovessero fallire la stagione perché non vincono, allora sarebbe un disastro. Io penso che negli ultimi anni, quindi tutti quanti, tutte le altre squadre hanno fallito praticamente ogni stagione. Penso che l'Inter anche stasera abbia dimostrato di aver accorciato molto le distanze sulla Juventus sotto tutti i punti di vista. Io penso che questo ci deve dare forza, ci deve dare fede nel continuare a lavorare, a fare quello che stiamo facendo. Poi alle altre considerazioni è giusto che le facciate voi che lavorate.